Vai, vai! Grazie. Sono... Non apre la voce! Sono ben contenta di avervi qua con me questa sera. Un'altra volta in passato sono felice per aver sentito che non ho presentato un po' che disse che non si vede ancora senza. Non è proprio! Non è proprio il tuo soggetto di questo mio discorso della mia vita. Mi voglio bene. Buonanotte! Tutti i giorni siete con me. E quindi... Sono... Allora, non si! Non mi piace! No, però non mi piace di un cuore! 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 Però... Che voi riuscivi a... Riuscivi sempre a stare così! Grazie ancora di tutto, ragazzi! Vi voglio bene! Mi piace di un bisso tra la canavella e il capiglio! Grazie! Grazie!